Penso che la discussione sia stata molto proficua. Abbiamo discusso e abbiamo soprattutto capito che la provincia vuole svolgere fino in fondo la sua attività di coordinamento. Ha prestato uno strumento che è quello che ritengo sia lo strumento in questo momento necessario, cioè mettere a disposizione dei comuni, dei sindaci che spesso ne sono sprovvisti, uno strumento che possa portare i sindaci e i comuni a prendere le decisioni quando è necessario. Cioè uno strumento che è comprensivo di professionalità, che sono in condizione di dire quando si verifica una situazione di emergenza oppure quando sembra che ci sia una situazione di emergenza ma questa effettivamente non c'è. Quindi lo strumento apprestato alla provincia riteniamo che sia uno strumento idoneo e per questo ringraziamo l'assessore Romano. La costa cilentana è una costa che vede spesso di sessi idrogeologici, problematiche per i paesi frane. Io penso che è arrivato il momento di intervenire massicciamente perché il parco nazionale è un parco pieno di vingoli, ma è un parco che viene soffritto non soltanto dalla popolazione che ci vive quotidianamente tutto l'anno, ma è un parco dove viene vissuto da tutta Italia. Quindi è giusto fare un intervento non solo dalla provincia, dalla regione ma anche dal governo perché dietro i vingoli ci vuole una compensazione. Altrimenti quelle zone incantevoli dove diventano una zona importante per la provincia di Salerno sotto l'aspetto turistico e di sviluppo economico rischia di spopolarsi. Quindi se le popolazioni non ci saranno, non ci sarà futuro. Il problema del dissesto idrogeologico è un problema diffuso che riguarda tutto il territorio del Cilento, sia il Cilento costiero che il Cilento montano. Speriamo che da parte degli enti e delle istituzioni si avvii un grande piano di risanamento che deve vedere impegnata innanzitutto la provincia perché c'è una viabilità provinciale che dopo anni e anni di mancata manutenzione, anche la manutenzione ordinaria, è diventata una viabilità assolutamente impercorribile. Ma ci sono altre situazioni che vanno affrontate attraverso gli enti preposti alla difesa suolo, quindi un impegno molto più consistente, molto più attento da parte della Regione e anche da parte degli organi di governo nazionale, in particolare il Ministero dell'Ambiente.